Pronto? Pronto? San Pedro ha detto a sordo del resto risponde a questo, risponde a quell'altro Rapport. Poi l'aveccio, secondo me. Pronto? Anche a fare il che fa questo Mr. Key, insomma, i sovani. Cioè, è Dio, no? Puttosto a scadargli la pensione, l'hotel lì. Anche perché se non sei il paradiso, i problemi dei pipì, che non è prostata, l'è proprio previdenza paradiso. Pronto? Ciao, però. Come chi sono? Cornelio? Ma come? Come che sono le zalia colazione? Ma no, ma quelli lì lì, San Cornelio, lì il papa, gli acopà, il suo tempo. No, no. Mi sono il Cornelio, quel che era venuto paradiso, che dopo è parava via perché fumeva, che dopo veniva in purgatoria e doveva una zogio stare la caldaia con quelli dell'Enev, che dopo la disco è vostra archiva, perché la trovavo una da Mattarelmo. no, lì è che, se lì anche ora devi venire su, io avrei sempre finito, eh. Non è più un blocco la caldaia, siamo a posto. Sì, però, sì, sì. Ma guarda bene le carte, guarda bene le carte. Ecco, allora, ma come la corriere da chi ha cento anni? Ah, in battaglia a vivere anche a voi, eh? Ah, hai mandato a doanzoi, no? Ma come è da farlo a Nadali, se c'è papen per tempo, eh? Ah, che, siamo in ottobre, eh? Sotto a un taxi. Eh, come, cosa vuol dire che si brucia il radiatore all'inferno? Ah, dai, dai, però, cioè, se chi mi fa tu scuse per, 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 insomma, mi doverlo l'ho fatto, giusto? Dai, adesso, eh, che fai, che fai, che fai, eh, tu, Trent, forbe a testare, eh. Dai, mollila lì con sto forcone, colche. No, no, dicevo, lascia stare un attimo. Eh, no, ti dicevo, però, che mi do lì, il 27 non va a buttare a Trent. Perché non che pur del lì, adesso mi mette su un altro, se vedrà, però dovrì andare a votare. Ma non può, no, ma come? Non se può mandarle per posta a ste robe. senteli, senteli almeno. Entro il 27, Cornelio deve andare a votare. Quindi Bionato odotto all'inferno. Ma non è qui da sommare, no? Non è qui da sommare, lei, lei che veramente... Scusa, però, mi ti dico, sono una roba. Scusa, se non vai qualche luni attorno a chi, all'inferno, mi che conto a tutti la storia, vecchia tua del confessionale con quel boccetto. Ecco, vedete, 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 ecco, ecco. No, 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 con il limusino, dai. No, 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 mi basta che... Ma no, ma va bene, ma... ma sta tranquillo, no, ma... Ma no, ma il Papa Francesco non sa niente, no, no, non vi dico niente, no, no... Ti fa così, mi basta che domani per le dese, uno mi strombazza, zocchi in strada, e vengo fuori, mi fa trovare in strada, non ha problemi, per le dese tende a cambiarne... Ecco, vedi, si mette d'accordo, basta... Ciao, però, ciao, ciao, ciao...